Ciao Astronomers! No, questa volta non ti presento un nuovo prodotto, questa volta sono qui insieme con Omar e la Prima Luce Lab Team, Martina, Dario, Massimo, Milena, Leonardo, Mauro, Salvatore, Mazim, Alessandro e Manuel, per wish you a Merry Christmas to you all, to Chris, Antonio, Georg, Joseph, Alessandro, Nicola, Javier, Giovanni, Azzam, Rodrigo, Stefan, Fabio, Daniel, Peyu, Paul, Mario, Alain, Raymond, Peter, Federico, John, Mark, Renato and Matthew! Come on guys, I've read them all! May the gift of love, peace and happiness be your! Merry Christmas!